18 dicembre 1879 Nasce in Svizzera Paul Klee Figura di primo piano nella storia della pittura del XX secolo viene conosciuto dal grande pubblico nel 1919 grazie alla sua prima mostra a Monaco di Baviera Fra i maggiori esponenti dell'astrattismo europeo nel 1933 il regime nazista definisce degenerata la sua arte costringendolo ad abbandonare la Germania Muore a Muralto nel canton Ticino nel 1940